Come ti chiami? Oh, fermo. Maestro, questa è una delle vetrine più importanti di Sorrento, mi raccomando. No, me lo doveva dire, ora mi prende l'ansia. Senti, ci dici il tuo nome, me lo hai detto, ma non si sente dai vetri. Filippo Rossi. Filippo Rossi, sempre Accademia Fiorentina. Sì, in realtà scuola senese. Ah, scuola senese, sottolineiamolo, è importante. Nella storia dell'arte i volumi si dividono in due, Firenze da un lato e Siena dall'altro. Speriamo di inserirci anche Napoli. Speriamo, insomma. Auguri, una sfogliatella dell'anno sferta. Non ancora. Questi padroni di casa sono un po'... L'aspetto al caffè. Però sono sicuro che a domani, saluto, devi lavorare tutta la notte perché le vetrine sono lunghe. Eh, lo so. Bocca al lupo, a domani.